Ecco, ci troviamo all'interno dello studio di Gabriele Lattuada a Clusone chiaramente durante l'estate c'è l'opportunità di poter tornare in Italia ma anche qui, nella città natale, il tempo è sempre dedicato allo studio E beh, sì, soprattutto in questo periodo dove non c'è tantissimo movimento per me questo è il mio habitat, il mio spazio mi sono immerso nei miei strumenti e per me questo è il primo hobby, la mia prima passione è il mio modo anche per crescere sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista musicale Vivi e lavori a Berlino da un po' di anni? Ormai sì, ormai sono quattro anni se non sbaglio che sono a Berlino prima ho fatto quattro anni a Brema, sempre in Germania quindi ormai sono otto, quasi nove anni che sono su però diciamo che alterno molto volentieri dai periodi qui in Italia E Su, al momento, com'è la situazione per gli artisti? Complicata, complicata come da un anno e mezzo a questa parte c'è la voglia di riprendere ovviamente come da tutte le parti però secondo me Su è un po' più in sordina rispetto a chi qua perché hanno chiuso leggermente dopo quindi riaprono anche leggermente dopo Qui in Italia, comunque adesso, in questo momento ci sono alcuni progetti che ti stanno coinvolgendo? Sì, e sono per me fonte di ossigeno perché riesco a dare sfogo alla mia creatività riesco a mettermi in gioco, a obbligarmi anche a studiare anche se fuori c'è bello, c'è il sole voglio preparare delle cose, voglio dare il meglio perché per me è un motivo di gioia riuscire a suonare, riuscire a fare il primo appuntamento che ho questa domenica con la guida turistica Laura Benzoni è uno spettacolo inerente al tempo perché ci sarà la visita all'orologio planetario Fanzago, in piazza Orologio qui a Clusone e su questo progetto ho pensato ad un piccolo set di strumenti che abbiano a che fare col tempo quindi delle piccole suggestioni sonore che verranno richiamate dalla guida mentre spiegherà delle cose io accompagnerò e richiamerò quello che è l'immagine sonora di quel momento Certo che per una Clusone poter sviluppare un tema come questo e magari anche un po' attingere a quello che è un background che è nel DNA di un clusonese che ovviamente anche richiamano occhiorino al mondo del jazz è una grande opportunità E beh, parliamo di clusone, parliamo del tempo, parliamo di percussioni quindi se c'è un filo conduttore che unisce tutto questo sono esattamente queste cose qua quindi per me è motivo di orgoglio e anche in qualche modo mi sento un po' sotto pressione quasi come portatore di un messaggio che unisce musica, che unisce arte, che unisce persone perché mi sento comunque parte della comunità di Clusone anche se vivo da ormai diversi anni in Germania Sei circondato da strumenti molto particolari? Sono circondato da strumenti ed oggetti molto particolari ognuno... tutte le cose che vedete qui è un insieme di cose che hanno un suono particolare che in quel momento funziona in quello che sto cercando io sostanzialmente cerco di avere un suono intorno a me che completi quello che sto cercando non essendo uno strumento reale tipo, che ne so, un flauto dove inizia e finisce e può sviluppare quelle note le percussioni è un mondo che non finisce mai quindi partendo da oggetti come possono essere questi dei tam tam o dei gong o dei piatti tibetani o thailandesi ci sono anche oggetti che è ad esempio questo che credo fosse il coperchio di una pentola o di un qualcosa che però suona secondo me in maniera molto bella in base a come si appoggia riesco a ottenere delle vibrazioni, delle cose e per me non è più un oggetto ma un veicolo per comunicare un'emozione, un suono prossimamente poi ci saranno anche altri progetti sempre sviluppati in Italia sì, qua a Clusone innanzitutto il 31 luglio avrò l'onore di suonare sotto la danza macabra anche qua una fusione tra musica, percussioni ed arte che è bellissima in un posto che secondo me è uno dei posti più suggestivi a Clusone dove suonare e lì sarà un set molto più ampio dove presenterò i brani del mio primo del mio secondo disco dove suonerò soltanto musica musica mia e avrò modo di presentare tutti questi strumenti assieme musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un altro tema che è stato sviluppato è quello della montagna. Anche qui c'è un altro affetto importante. Eh beh, sì, io ritorno volentieri a Clusone anche perché a Berlino le montagne non ci sono. Quindi c'è una collina di 80-90 metri, però non sono di certo le orobie. Quindi questo è assolutamente un tema che mi è molto caro e ho sempre cercato di unire anche musica e montagna. Due anni fa, con il mio amico e collega Daniele Campanaro, che è un lighting designer, siamo riusciti a portare un mini trekking di montagna, quindi con lo zaino, appesantiti da tutte le robe che servono per stare in giro in montagna qualche giorno. Quindi ricambi, quindi imbraghi e tutto, con dei piccoli strumenti e delle luci, siamo riusciti a portare in montagna partendo a piedi. Questo lo dico perché tutti arrivano con la macchina o con l'elicottero, è troppo semplice. Noi siamo partiti a piedi e nei rifugio abbiamo portato la nostra musica e la nostra arte suonando un po' anche la montagna, quindi cose che abbiamo trovato lì. Al rifugista ho chiesto le pentole oppure la boccia dell'acqua oppure una grata al rifugio Albani. Ho suonato per tipo, credo, 20 minuti una grata di metallo che era praticamente il tetto, un pezzo del tetto del rifugio. Secondo me è una cosa meravigliosa il fatto di unire uno scenario come la parete nord della Bresolana a della musica, dell'improvvisazione con dei suoni. Era passato un aereo improvvisato sul passaggio di questo aereo. Per me è bellissimo, mi fa sentire libero. Esecuzioni da seguire non ad occhi chiusi, in quanto c'è anche un'altra componente, che è quella della luce che interviene nell'arricchire tutto questo. Sì, da anni collaboro appunto con questo lighting designer Daniele che mi aiuta a sviluppare questo concetto del suono ma anche della luce, quindi questa multimedialità. E secondo noi è molto importante riuscire a collegare le due cose, perché abbiamo fatto ad esempio uno spettacolo che si intitolava Attraverso il buio, quindi tramite la luce che riuscivamo a fare e tramite il silenzio riuscivamo a captare delle cose che altrimenti non si riescono a godere appieno. Ma com'è la tua giornata, tipo a Berlino, non qui in Italia? Ma a Berlino innanzitutto, se sono libero, fado a fare due passi, ma poi mi rinchiudo in studio, dove ho tutti i miei strumenti, dove ho inciso i miei dischi. Dopodiché ho le lezioni, vado, io sono insegnante di batterie di percussioni, per bambini, dai bambini a 5-6 anni che prendono in mano le bacchette per la prima volta e vogliono diventare delle rock star, oppure per adulti. Quindi chiunque si voglia incuriosire al mondo delle percussioni e al mondo della batteria. Dopodiché, ad esempio in questo periodo, le orchestre liriche e sinfoniche iniziano a richiamare, perché hanno bisogno di musicisti, di percussionisti che vanno a ricoprire i ruoli, quindi finalmente si ritorna sui palcoscenici, anche importanti, di un po' di mezza Europa, almeno anche per adesso solo in Germania, perché viaggiare fuori è ancora un po' complesso. E poi ci sono le produzioni con amici, colleghi, collaborazioni che ho stretto in questi anni. Io ho un duo di percussioni di Lola, con Lorenzo D'Erasmo, che è un bravissimo suonatore di frame drum, che sono tamburi a cornice, dal quale è uscito il nostro primo disco, Lola, ad aprile. Tra dieci giorni, tra cinque giorni, partirò per Brema, io e Daniele Campanaro andremo con Riccardo Castagnola a fare una... quella che è una specie di residenza artistica. Lui lavora con l'elettronica, quindi registra i suoni che io produco e li distorce. E con le luci riusciremo a produrre del materiale video, audio, su certi versi all'avanguardia, che ci incuriosiva da molto tempo. Oppure semplicemente suono. Mi piace divertirmi, mi piace suonare. Adesso ovviamente la precedenza è al lavoro, se qualcuno chiama qualche... le orchestre. È tempo di tornare a suonare, ma diciamo che da mattina a sera il mio mondo è composto di questi suoni. Grazie a tutti. Ma cosa c'è nel tuo futuro? Quali potrebbero essere i temi che potrebbero suscitare il tuo interesse nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Io mi sento... cerco sempre di rimanere molto slegato e molto libero nella mia ricerca. Io parto, come ho detto, dalla ricerca sonora. Mi definisco un libero percussionista perché voglio sentirmi libero di sperimentare cose. Dato che ho studiato in conservatorio e lì si studia solo un certo tipo di strumento in un certo modo, seguendo determinati dettami, ho cercato di uscire da questa cosa e circondarmi del suono, del mondo sostanzialmente. Tramite questa cosa qua io riesco a scoprire il mondo, riesco a scoprire nuovi amici, riesco a scoprire nuove cose. È un modo molto divertente per me, per vivere. Quindi non so cosa accadrà. So solo che scoprirò nuove cose. E' un modo divertente per me, per vivere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.